Mio padre non distingue la destra dalla sinistra. Queste due parole non hanno nessun significato nel suo codice verbale. Se sei in macchina con mio padre e sta guidando mio padre, e se sei in macchina con mio padre e sta guidando mio padre, già un bel cazzo di problema, perché vuol dire che il resto della famiglia è in gravissime condizioni. Se sei in macchina con mio padre e sta guidando mio padre, e gli dici, gira a destra, è come se gli avessi detto, gira a prosciutto, gira a prosciutto. Gira, perché capisce quella porzione della frase. Hai un 30% di possibilità che giri a destra, 30% che giri a sinistra, 40% che faccia inversione U e uccida tutta la famiglia. Quindi negli anni abbiamo imparato a dargli indicazioni esclusivamente gestuali. Oppure piccole ustioni con l'accendisigari sul lato del corpo verso cui deve girare.